Difficile capire le complesse dinamiche che regolano il rapporto tra le team star e loro fan. L'ultimo caso clamoroso riguarda Justin Bieber, in guerra aperta con le sue appassionate e spesso feroci sostenitrici, le cosiddette Bieber's. Al centro della bufera, immancabilmente, non c'è un nuovo disco o il tour del cantante inglese, bensì, come al solito, la sua vita privata. Pare che Justin abbia una nuova fiamma, quel che si dice decisamente un buon partito. Trattasi niente meno che di Sofia Rikie, sexy modella californiana di 17 anni che è l'anagrafe, risulta figlia del grande Lionel Rikie. Alcune foto su Instagram li mostrano insieme in Giappone, anche se non è ancora chiaro quanto sia serio il loro legame. Tanto è bastato però, per scatenare l'ira funesta delle Bieber's. Il motivo? Manco a dirlo, le fan di Bieber continuano a sperare che la loro popstar preferita torni insieme alla storica compagna Selena Gomez. Difficile capire perché un 22enne sex symbol nel 2016 dovrebbe consacrarsi alla monogamia con la fidanzatina dei tempi dell'adolescenza ma, come si diceva, le vie del fandom sono infinite. Sta di fatto che su Instagram, a margine delle foto di Bieber con la Rikie, sono piovuti insulti contro quest'ultima come non ci fossero domani. Le supporter? Di Justin li danno della beat insulto anglosassone non proprio raffinato e fanno impazzare la hashtag Tian Selena, mentre qualcuno scrive addirittura. Lui è il nostro uomo, non il tuo. Una protesta di massa che non è andata giù a Bieber, il quale ha lanciato la più crudele delle minacce. Sparire dai social. Renderà privato il mio profilo Instagram se voi ragazzi non fermate quest'odio che vi sta sfuggendo di mano. Se voi foste delle vere fan, non direste queste cose alle persone che mi piacciono. Mentre su Twitter impazzano gli hashtag Ribele e Bers e Selena di Justin Party, a sorpresa interviene nella cherella stessa Selena Gomez, che ha commentato così la presa di posizione dell'ex. Se non riesci a gestire l'odio smetti di pubblicare immagini con la tua ragazza. Dovrebbe essere qualcosa di speciale che riguarda solo voi. Non essere arrabbiato con le tue fan. Loro ti amano. Da questo commento è scaturito un focoso battivecco tra ex. È divertente vedere come c'è chi mi usa per avere attenzioni e continua a puntare il dito verso di me. Che cosa triste, scrive Bieber, con relativa contro risposta di Selena. È divertente vedere come chi ha tradito più volte punta il dito verso chi l'ha sempre perdonato. Non mi stupisce che le sue fan siano arrabbiate. Che cosa triste. Entriamo maggiormente nel dettaglio per quanto riguarda la presunta nuova fiamma di Bieber. Come già anticipato, Sofia è figlia dell'icona musicale Lionel Erechie e della sua seconda moglie Diana Alexander. Nata il 24 agosto 1998 a Los Angeles, come molte eredi di personaggi del mondo dello spettacolo ha scelto la strada della moda. Ha un fratello nato dal matrimonio dei suoi genitori, Miles Brockman, e una sorellastra, Nicole, che Lionel adottò insieme alla prima moglie Durenda. Chi se ne frega. Chi se ne frega.